Chiara Montani, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, anzi bentornata qui nel podcast Il Posto delle Parole per raccontare la nuova scrittura pubblicata come sempre da Garzanti. Il romanzo si intitola Enigma Tiziano, l'eco della guerra che incombe, un dipinto nascosto, una donna pronta a tutto per proteggerlo. Chiara Montani, leggo una risolta di copertina, architetto di formazione, ha lavorato nel campo del design, della grafica, dell'arte, esplorando diverse tecniche e materiali, partecipando a molte mostre. Qual è l'ultima mostra a cui ha partecipato Chiara Montani? Adesso volevo andare a visitare a Milano, mi hanno detto che l'idea Palazzo Reale, però diciamo che l'ultima a cui ho partecipato risale a molto tempo. Purtroppo è da un po' che non partecipo a mostre e questo mi dispiace molto. Lei è specializzata in arte e terapia e conduce da anni a Tegliè sulle potenzialità terapeutiche del processo creativo. E nel processo creativo entra anche la scrittura di un romanzo? O potrebbe entrare, vero Chiara? Beh, naturalmente sì e comunque fa parte... c'è comunque anche una terapia attraverso la scrittura. E poi comunque il processo creativo include le arti visive, ma naturalmente include tutti i prodotti della creatività umana, quindi decisamente sì. Questo romanzo enigmatiziano, io ho cominciato a leggerlo perché ho il vizio di cominciare a leggere i libri. Se c'è per esempio una postfazione, io la leggo prima, oppure leggo prima i ringraziamenti, che sono una sorta anche di... non per entrare da una porta di servizio all'interno del romanzo oppure per spiare dal buco della seratura sulla vita privata dell'autore o dell'autrice, no, no, è un modo diverso per entrare nel libro e anche per conoscere di più, perché per esempio nei ringraziamenti Chiara Montani ci dice che questo libro è legato in modo indissolubile al ricordo di un amico fraterno, Paolo, che era di solito, era solito presentarsi dicendo a chi non lo conosceva di abitare nel posto più bello del mondo. Ecco, io credo che questo sia stato un omaggio bellissimo a Paolo Chiara Montani. Sì, senz'altro, ed è un omaggio dovuto perché in realtà io... questo libro non sarebbe mai nato se appunto Paolo non mi avesse portato nel luogo che lui riteneva il più bello del mondo. E qual è? È il borgo di Garniano, che è un borgo dal fascino appartato, che sta sulla costa del lago di Garda, la costa bresciana del lago di Garda. E in questo luogo che poi lui mi ha insegnato a vedere attraverso i suoi occhi, gli occhi innamorati di chi è nato in questo luogo, e ho scoperto innanzitutto queste atmosfere molto particolari, ma anche delle memorie storiche molto potenti, che non sono notissime ai più, perché si dice che la Repubblica Sociale si nomina come Repubblica di Salò in genere, no? E pochi sanno che in realtà invece la sua testa e il suo cuore si trovavano a Garniano, perché lì c'è la Villa Feltrinelli, appunto, dove viveva Mussolini con la sua famiglia, ma non solo, c'è anche il Palazzo Bettoni di Bogliaco, dove era proprio la sede del governo, e c'è anche il Palazzo Feltrinelli dove c'erano le segreterie personali, quindi l'ufficio del Duce, per cui era tutto lì a Garniano. A Salò c'era solo l'agentia stampa, veniva detto notizie da Salò nei comunicati, e quindi è rimasto nella memoria collettiva questa Repubblica di Salò. Però in realtà era tutto lì, quindi queste memorie sono ancora molto forti, sono degli storici, c'è soprattutto uno storico locale, Bruno Festa, che ha scritto, ha fatto delle ricerche molto approfondite, ha scritto dei libri, Sacchetti sul Lago e Polvere Nera, in cui raccoglie tutti i documenti, le memorie di quegli anni, ed è stato preziosissimo, mi ha accompagnato sui luoghi, le nostre conversazioni, appunto questi sopralluoghi. Io ho potuto respirare quell'atmosfera decadente che esisteva intorno a Mussolini in quegli anni, perché Mussolini era confinato sul lago, lui lo detestava, addirittura si dice che non volesse la camera di Mussolini, non guardava il lago ma guardava monte, tanto lui lo odiava, cercò più volte di fuggire dal lago, e nelle lettere che scrive alla sua amante, Clareta Pettacci, che era invece alloggiata a Gardone, dice di sentirsi accerchiato, di sentirsi controllato dai tedeschi, confinato in questo luogo dove non c'era una strada sola che arrivava, quindi lui abituato alle grandi folle, alle grandi piazze, si sentiva assolutamente in una condizione infelice. Quindi ho cercato di ricostruire questa atmosfera decadente e poi ho ricostruito il momento in cui l'occupazione tedesca che si è sparsa su tutta la riviera, arrivando fino a Gardone, ha portato in questo borgo di 2500 anime, fino al giorno prima, dedito all'allevamento, alla pesca e alla coltivazione dei limoni, ha portato a una vera e propria invasione, l'ha mandato alla ribalta internazionale, per cui con tutto il carico anche di disagi, ma anche di opportunità, perché molti naturalmente si sono arricchiti con questa invasione. E tra quelle vie di quel borgo, tutte queste divise che si muovevano, ho immaginato la mia storia e ho visto appunto... Sono diventata Aida, i miei passi sono diventati quelli di Aida. I passi sono diventati quelli di Aida, questa donna restauratrice, un po' artista, un po' tanto e la scopriremo fra poco, però prima andiamo a scoprire l'immagine di copertina, che è un'immagine molto particolare, anzitutto è un'immagine dove finalmente non c'è qualcuno che ti guarda, e questo mi sembra già una cosa molto bella, ma ce la racconti Chiara Montani, che cosa ci dice questa immagine? Questa immagine innanzitutto sullo sfondo vediamo proprio la Villa Fentinelli, che adesso è trasformata in un hotel di lusso, ma comunque qui ci abbiamo messo sulla svastica per ricordare quei tempi, ed è un'immagine appunto del lago, ma questa donna con la tesa del cappello che riflette un'ombra sul volto suggerisce anche un certo mistero, perché comunque c'è anche un risvolto misterioso nella vicenda, un risvolto che appunto anche il titolo riverbera, enigma. Io in realtà avrei voluto più Nero, Tiziano, era il titolo che avrei voluto inizialmente, perché è una storia... E perché non è stato concesso questo titolo ed è diventato Enigma Tiziano? Ma Enigma Tiziano è stato un po' un compromesso, diciamo, tra il titolo che voleva l'editor, perché comunque i titoli di solito li scelgono più gli editori che non gli autori, o comunque trovano dei compromessi, e questo è stato un po' il compromesso. In realtà il mio titolo era Nero Tiziano, perché comunque il Nero è molto presente, perché tutto inizia con un quadro coperto di Nero. Poi c'è il Nero del fascismo, il Nero del nazismo, il Nero dell'abisso dell'animo umano, su cui alcune pagine appunto si affaccia. Probabilmente non è andato Nero Tiziano, perché tutti noi quando pensiamo a Tiziano pensiamo al rosso, i capelli disegnati da Tiziano, per esempio, sono delle cose straordinarie, quindi probabilmente per quello, oppure per esigenza anche di attenzione da parte del lettore quando entra in libreria. Enigma Tiziano rispetto a Nero Tiziano probabilmente è più immediato. Chi lo può dire? Si dovrebbe però fare una prova con i due titoli a confronto, che non sarebbe male. Chiara Montani, andiamo indietro nel tempo. Lei l'ha già detto, sul lago di Garda, siamo nel 1942 e c'è questo ritrovamento molto particolare, c'è questo quadro che ha avuto delle pennellate di Nero, Nero pieno potremmo dire, e non si tratta di arte moderna. Aida in questo caso, voglio ricordare il nostro ascoltatore, non ha nulla a che fare con la robotica, il robot artista che proprio di nome si chiama Aida. Aida è una restauratrice e trova questo quadro dipinto di Nero e lì comincia a porsi delle domande, a porsi degli interrogativi, ma a proposito di arte. Abbiamo prima parlato di Tiziano, Chiara Montani. Vogliamo parlare invece di qualcuno che è completamente all'opposto, forse lei mi troverà dei fili rossi che legano le due personalità artistiche. Paul Klee, noto astrattista, che lei cita in esergo dalla confessione, creatrice e altri scritti. Le parole sono queste. Nel grembo della natura, nel fondo primordiale della creazione, dov'è custodita la chiave segreta del tutto? Punto di domanda. Dov'è custodita la chiave segreta? Forse in quelle pennellate di nero? Ma forse nell'essenza dell'opera che sta sotto a quelle pennellate di nero, nel senso che il rimando non è casuale a Paul Klee e anche a Kandinsky che viene molto citato all'interno del romanzo. Proprio perché l'arte astratta, distaccandosi dalla natura, punta all'essenza, punta a portare in superficie l'interiorità, è libera dalla ricerca di un messaggio, quindi permette di cogliere meglio il dialogo tra i segni e i colori. E all'arte astratta si dedica la mia protagonista, la cui mano è troppo razionale per essere artista in altro modo, solo con l'arte astratta. E all'arte astratta, pur con le debite distanze e con i secoli che li separano, si rimanda anche quel dipinto di Tiziano, perché è un dipinto molto particolare, un dipinto che appartiene all'ultimo Tiziano. E l'ultima fase della carriera di Tiziano è qualcosa che i critici ancora non riescono a spiegarsi. è come se Tiziano, l'immenso, multiforme, artista, colorista, perfetto, nella vecchiaia, negli ultimi anni della sua vita, all'approssimarsi della fine, si sia diretto in una direzione completamente diversa da quello che è stata tutta la sua carriera. e con lo stesso acume con cui un tempo indagava le fattezze dei modelli che andava a ritarre, è come se si fosse stancato dall'esteriorità e scende oltre la pelle delle cose per portare in superficie le passioni. E l'invisibile, forse. E l'invisibile. infatti non le nego che uno dei primi titoli che mi erano venuti in mente per questo romanzo che però è stato subito bocciato perché era un titolo molto particolare era Le apparenze dell'invisibile. Ma che bello! In effetti è un titolo che è ben sattaglio. È un po' saggistico però era poco da romanzo. Ma detto era un po'? È un po' saggistico diciamo. In effetti è un po' saggistico. qualcosa di filosofico. Ma in effetti l'ultima parte di Tiziano l'ultima parte della vita di Tiziano parlo del senso artistico a cui lei faceva riferimento era anche era anche forse un andare oltre al solo al solo gesto artistico della pittura a qualche cosa che poteva raccontare non solo attraverso le figure ma poteva raccontare il metafisico vale a dire l'invisibile a Tiziano a Tiziano piaceva molto l'eternità no? era entrare nella biografia di questo autore entrare veramente in un mondo immenso e lei ce lo potrebbe raccontare ma in questo caso raccontiamo enigma Tiziano ma e tra l'altro a proposito lei vi diceva poco fa che non non frequenta non ha più partecipato a mostre d'arte però in pratica ci fa partecipare noi lettori all'arte con i suoi libri il mistero della pittrice ribelle della ritrattista adesso l'enigma Tiziano inserendo tra l'altro volevo mi ripromettevo anche di andare a Venezia perché c'è in corso alla galleria dell'accademia una mostra sul primo Tiziano invece l'opposto dell'ultimo periodo quindi sicuramente anche questo questo è da vedere non è sicuramente un'occasione da non perdere pensi fare una presentazione davanti alle opere di Tiziano che bello che era un sogno quello sarebbe sicuramente è veramente un bel sogno ma entriamo nella mente di Aida e nei suoi sogni prendiamo come spunto questa parola e quindi lei sogna anche di trovare una rarità di essere di fronte a un capolavoro straordinario però però quello che sta vivendo il mondo è qualche cosa di particolare e allora il tempo della guerra è stato un tempo anche difficile per le persone ma anche per l'arte quando non so le cose io ho il piacere di dirlo che non conosco una cosa io in tutte le storie della Resistenza che ho letto che che mi hanno raccontato forse non ho mai fatto caso che la Resistenza ha lavorato anche per custodire l'arte e questo mi sembra una cosa veramente molto bella da scoprire in un romanzo che usa la finzione ma per aprirci in ogni modo una pagina di storia Chiara Montani beh assolutamente io mi sono appassionata molto alle disavventure patite dal nostro patrimonio artistico oddio non solo il nostro in realtà ha coinvolto il patrimonio dell'intera Europa e alle vicende delle persone che a rischio della propria vita sono si sono prodigate per far sì che questa arte arrivasse fino ai nostri giorni e quindi sì ho immaginato che Aida fosse una paladina dell'arte facesse parte di questa organizzazione che in realtà esisteva davvero perché tutto nasce facendo un passo indietro dall'ossessione nazista per l'arte no? Hitler era un artiste fallito era stato respinto all'Accademia di Belle Arti di Vienna e per tutta la vita si è portato dietro questo smacco e dell'arte era davvero ossessionato dall'arte ha fatto proprio ne ha fatto un'arma di propaganda e l'ha l'ha utilizzata identificandola con la sua visione politica anche e soprattutto era anche un avido collezionista quindi aveva in mente di costruire il Führer Museum che era avrebbe dovuto essere il museo più grande del mondo nella città di Linz e in questo museo chiaramente questo museo avrebbe dovuto essere arricchito con tutte le opere razziate nei paesi occupati in Europa in Italia essendo alleata l'Italia della Germania non poteva razziare come ha fatto in altri paesi però in compenso c'era Mussolini che lo accontentava in tutto e per tutto perché non essendo un grande appassionato d'arte si racconta di una visita la prima visita di Isra era Venezia in cui Mussolini annoiato da tutte queste soste davanti ai dipinti poi si dice c'è un suo discorso alla Camera dei Fasci del 42 in cui dice che avrebbe voluto un paese con meno quadri meno statue ma più bandiere strappate al nemico quindi insomma per lui non era un problema accontentare l'alleato per cui i nazisti chiedevano e c'era una commissione cappeggiata da Filippo D'Asia con il genero del re con il ministro degli esteri che facilitavano l'esportazione di opere quindi tutto questo cominciò anche prima della guerra poi dopo la guerra ovviamente la situazione è precipitata soprattutto dopo l'8 settembre quando i tedeschi effettivamente hanno marciato sull'Italia e le truppe hanno avuto mano libera di requisire ciò che volevano come è accaduto a Monte Cassino come è accaduto poi nei depositi in cui erano dislocate le opere di Firenze che sono state portate verso nord e solo per miracolo grazie appunto a questi agenti segreti dell'arte si è potuto capire la loro destinazione e arginare quello che stava accadendo e appunto c'erano persone come Rodolfo Siviero per esempio che era un vero agente segreto dell'arte che aveva messo in piedi un'organizzazione una vera organizzazione di spie per la protezione del patrimonio artistico che facevano parte artisti ma non solo intellettuali professori infiltrati anche tra le file nemiche e che comunque di cui ho immaginato esistesse un omologo a Venezia campeggiata dal professore con cui Aida aveva studiato arte in gioventù in cui lei con cui lei collabora in cui viene chiamata a collaborare è Vittorio Sartori Vittorio Sartori è quest'uomo che incontra Aida e devono collaborare però la collaborazione non è pari e c'è qualche cosa che che non funziona nella reputazione di questo di quest'uomo per quanto sia un uomo anche molto affascinante però senza dire troppo ovviamente rispettando i nostri ascoltatori i prossimi lettori di questo romanzo e Aida a un certo punto non solo da Vittorio Sartori si sente quasi accerchiata e quindi lei restauratrice ma amante di quel quadro di nero ricoperto ma soprattutto pensa anche a proteggere la più parte del patrimonio artistico per far non per non far fare la fine a cui faceva riferimento poco fa lei Chiara Montani quindi Aida chi lo sa riuscirà mai nel suo nel suo progetto a comprendere esattamente questo dipinto di Tiziano ma a comprendere poi non solo il dipinto perché poi questo è un lavoro sull'arte un lavoro sulle persone sulla storia ma è un lavoro anche su se stessa su Aida perché poi in fondo plasma anche se stessa questa storia che ne dice Chiara sì sicuramente è una storia che la cambia profondamente tutte le vicende è un romanzo un po' di formazione per questa donna e innanzitutto a me piace usare una metafora d'arte perché quella poi è la mia passione è una metafora d'arte per definire Aida quando parla con il suo professore che la rimprovera sempre di aver lasciato la pittura per dedicarsi al restauro di aver lasciato Venezia per dedicarsi ad andare a Fienze lei risponde è stato come scele tra il braccio destro e il braccio sinistro perché effettivamente dentro di lei c'è una grande razionalità che io identifico come metafora con la razionalità fiorentina la città del disegno della prospettiva dove appunto non c'è nulla di più razionale della prospettiva che ingabia la visione dal punto di vista di un osservatore immobile però Aida è anche una donna d'acqua una donna che vive a Venezia che vive sul lago quindi Venezia cos'è? Venezia è il colore Venezia è la città caleidoscopica inafferrabile o l'ingannevole come un gioco di specchi dove tutto muta ogni istante e infatti i suoi artisti si sono espressi con il colore sono coloristi il tonalismo veneto non c'è nulla di più incorporeo e mutevole del colore ma parla il linguaggio delle emozioni e lì di nuovo Aida è una donna razionale ma è una donna anche passionale una donna impulsiva che a volte a volte si mette nei guai per la sua impulsività perché sfida un colonnello nazista e non sa tenere a freno la lingua e però durante questa vicenda imparerà molte cose di sé crescerà imparerà a smussare questi angoli che il mondo non è fatto solo di bianco e di nero e soprattutto imparerà a non restare più in disparte perché le vicende drammatiche con cui dovrà confrontarsi le faranno venire la voglia di impegnarsi in prima persona cioè non sarà più la teorica ma sarà davvero attiva rischiando anche si sporcherà le mani scenderà in campo e scenderà a compromessi scenderà in campo e scenderà anche una bella storia di sentimenti con questa con la vita di Aida perché lei poco fa Chiara Montani parlava di Venezia di questa straordinaria presenza Venezia è anche il luogo del ritorno perché a un certo punto non voglio rivelare più di tanto ma c'è qualcuno che dice devo tornare a Venezia e Aida forse a Venezia ci andrà ci andrà pure lei Enigma Tiziano è il romanzo che abbiamo raccontato ma non troppo romanzo pubblicato da Garzanti scritto da Chiara Montani ma prima di salutarci qual è Chiara il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi sono agli antipodi rispetto ai romanzi e sto leggendo Carlo Rovelli Buchi Neri I Buchi Neri pubblicati da Adelphi e beh questo è un libro è un libro sì no è fantastico io amo straordinario perché è un libro che avrà una vita straordinariamente lunga perché questo è un punto è un punto di confronto eccezionale con l'eloquenza la capacità di conoscenza che ci propone che ci propone Carlo Rovelli che cosa che cosa l'ha stupita di questo libro che cosa la sta stupendo se è in corso di lettura? beh mi sta stupendo anche nel precedente la realtà non è come appare che ho appena terminato beh io non sono portata per la fisica di mio fatico devo dire però lui riesce a farmela capire in modo abbastanza diretto e questa meraviglia della teoria della relatività generale che non conoscevo così approfonditamente mi sta stupendo tantissimo soprattutto il discorso del tempo cioè del tempo della relatività del tempo che non esiste che cambia a seconda della distanza dell'osservatore dalla gravità e quindi che ci dice che comunque è tutto relativo è tutto illusorio ecco e lo trovo molto profondo e anche molto spirituale come messaggio grazie davvero Chiara Montani e buona giornata grazie buona giornata a voi